Buona e santa serata a tutti, eccomi qui nel mio angolino di casa, nel angolino della scrittura, nell'angolino dove studio tutte le attività, leggo anche i vostri messaggi, le vostre mail. La vedete questa madonnina piccola alle spalle mie? Questa qui, nell'incastro della libreria. Sapete che questa madonnina farà con me il giro d'Italia durante le presentazioni del nuovo libro Le vie di Maria che come sapete ormai, lo sapete tutti, esce domani e scusate ma io sono orgoglioso e vi voglio far vedere di nuovo la copertina perché da domani, da domani lo troverete in tutte le librerie, Le vie di Maria, Rizzoli, Don Francesco Cristofalo e da domani si parte, si iniziano le presentazioni e vi dicevo che questa madonnina, vi racconto la storia di questa madonnina perché è la prima volta in assoluto che lo dico, non l'ho mai detto in nessunissima presentazione, questa madonnina verrà con me dappertutto, la porterò dappertutto, la porterò con me. Allora vi racconto la storia di questa madonnina Quando io ero bambino e quando grazie alla mia nonna materna ho cominciato a pregare perché mi ha insegnato l'Ave Maria io ho cominciato a chiedere la grazia della guarigione fisica Volevo guarire dalla mia paresi spastica alle gambe Volevo guarire da questo modo brutto di camminare Non mi piacevano gli sguardi dei bambini, non mi piacevano i loro sorrisi Non mi piaceva il fatto che chiedessero ai loro genitori Ma perché cammina così? Non mi piaceva tutto questo E allora alla madonna chiedevo voglio guarire, voglio guarire, voglio guarire E dopo aver sognato una notte di essere guarito scendo dal letto, apro l'anca dell'armadio e faccio qualche passo e vedo che non ero guarito Allora dico alla madonna ma tu sei una mamma cattiva, ma io sono un bambino, perché non mi ascolti? Dopo poco tempo il mio parroco mi regalò questa statuetta piccolissima della madonna immacolata Con le mani aperte e con il manto aperto Bellissima, bellissima Sono 35 anni che custodisco questa madonna E ora è venuto il tempo di portarla con me Perché lei possa fare le grazie a tutti coloro che la guarderanno E quel manto aperto non è casuale Perché poi dopo un paio d'anni incominciai a frequentare degli incontri di spiritualità E qui in questa chiesa sentita questa voce materna di donna Anche lei si chiamava Maria, oggi non c'è più Che diceva Mettetevi sotto il manto della madonna Io ascoltai quel consiglio, mi sono trovato sempre bene E lo ascolto tutt'oggi e continuo a trovarmi bene Mettetevi sotto il manto della madonna E ora voglio prima di pregare Dedicarvi una delle preghiere che ho scritto Sono mie queste preghiere all'inizio del libro Mamma Perché possiate sperimentare che Maria è una mamma Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen Tu sei la nostra mamma bellissima In tutto il mondo sei invocata regina di pace Piena di grazia Madre della speranza Volge a noi gli occhi tuoi misericordiosi Tu donna forte Insegnaci essere forti nelle prove Tu madre coraggiosa Insegnaci il coraggio nelle battaglie quotidiane Tu madre dell'amore Insegnaci che l'amore è la strada che ci porta alla pace Ti amiamo mamma Sotto la tua protezione Cerchiamo rifugio Santa Madre di Dio Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova E liberaci da ogni pericolo O Vergine gloriosa e benedetta Amen E ora accogliete la benedizione Il Signore sia con voi Vi benedica Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo Amen Questa sera ve la posso chiedere una preghiera per me Che domani vada tutto bene Sì perché domani sarò alla chiesa Sacro Cuore Località Casciolino di Catanzaro Chi è di quelle parti lo sa E quindi chiedo davvero agli amici di Catanzaro Di essere con me in quella chiesa Buonanotte a tutti E se Dio vuole Se Dio vuole Ci vediamo domani E mi auguro che qualche giorno Tutti voi possiate incontrare questa Madonnina Perché vuol dire che sarò venuto da voi Ciao a tutti